Mr. Radostin Stoice va alla vigilia della importantissima partita contro Lube, Banca Marche e Macerata. Che partita sarà? Cosa si aspetta e come arriva la sua squadra? Ovviamente mi aspetto una partita molto complicata contro la squadra più in forma in campionato. In un campo difficilissimo, la nostra squadra per fortuna sono tutti a posto fisicamente, hanno lavorato anche sostanzialmente nel ultimo periodo, andiamo lì come sempre per fare il nostro meglio e cercare la vittoria. All'andata fu una partita molto combattuta, c'era anche da tenere in causa la stanchezza derivante da Doha, il ritorno sarà altrettanto combattuto? No, noi non cerchiamo le scuse per la stanchezza e altri motivi, hanno vinto loro meritatamente. All'andata, adesso noi andiamo a cercarle la vittoria. Sono le due squadre, Macerata e Trento, che sino ad ora hanno battuto meglio. La battuta inciderà tantissimo, anche in questo caso? Una partita di questo tipo incide tutto. Il gioco complessivo, tutti i fondamentali di pallavolo e soprattutto la squadra. Grazie mister.